Prevenire l'abusivismo sul litorale di Giulianova è questo l'obiettivo dell'operazione congiunta di Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia, Ferroviari e Guardia Costiera coordinata dalla Questura di Teramo, la settima effettuata a Giulianova dal mese di luglio. I controlli vogliono contrastare soprattutto il fenomeno della contraffazione dei marchi e della vendita abusiva e quindi la rete illecita di acquisizione, immagazzinamento e trasporto delle merci destinate al commercio ambulante estivo. Diverse persone di nazionalità straniera sono state identificate e controllate presso la stazione ferroviaria con il sequestro di capi di abbigliamento ed accessori. Una operazione interforze svoltasi contro il commercio abusivo al comune di Giulianova tende a dimostrare il fatto che noi siamo perfettamente coscienti che il territorio del nostro comune è particolarmente appetibile per il commercio abusivo. Ma è anche altrettanto vero che tutto questo impegno va a dimostrare che il nostro comune è inospitale nei confronti di ogni e qualsiasi forma di commercio abusivo. Siamo a fianco dei nostri commercianti, sappiamo che questa pratica è del tutto illegale e vogliamo anche in particolar modo sensibilizzare cittadini e turisti che molte volte non si rendono conto di stare commettendo un reato nell'acquisire merce abusive e soprattutto spesse volte di mettere a rischio la propria salute e quella dei propri figli acquistando merce pervenente da laboratori non certificati e nella maggior parte dei casi trattati con sostanze nocive.